Fate un saluto Sono Quandissimo e amo Billy Ma chi te l'ha chiesto? Sono Secchia e amo Billy Fora a te chi te l'ha chiesto? Sono Eleonora e odio Billy Nooo tu eri l'unica gnocca Poezia Nome B di bellissimo I di incredibile L di leggendario L'altra L di... Lercio E le lascia le fare a me le battute E Y di... Beh non c'è niente con la Y Io direi Y di idiota Convinto che fosse con la I Ma tanto tu non sai leggere Giusto hai ragione Io sono Secchia di nome e di fatto Io sono fondissimo e super fighissimo Comunque io sono Eleonora Si so che tratto sempre male Billy Ma in realtà sono simpatica Data di nascita Il giorno del mio compleanno 11 luglio 2000 Io sono nata il 21 dicembre Sono un sagittario E sapete che non si può rispondere a questa domanda Perché in realtà il tempo è relativo Secchia risponde alla domanda e basta Come vai a scuola? A piedi Io a scuola non ci vado Io me la cavo abbastanza dai Poi sono bello con cui sono professoresse Benissimo Sono la Secchiona della classe Non per niente mi chiamo Secchia Io non ho mai capito se Secchia è il tuo vero nome Oppure il tuo soprannome È il mio vero nome I tuoi genitori dovevano volerti veramente male Perché? Come facevano a sapere i tuoi genitori che saresti nata a Secchiona? Vabbè Sarai nata con gli occhiali Che c'è? Io sono nata così Materia preferita Intervallo Fisica Anch'io fisica Educazione fisica Così posso andare in cortile e cercare di scappare dalla scuola È un'ottima idea Perché non ci ho pensato io? Certo perché tu quando andiamo in cortile ne approfitti per scorreggiare in modo che nessuno ti senta E tu come fai ad averle sentite comunque? Perché la puzza arriva comunque La mia materia preferita è inglese Allora ditemi un saluto in inglese Hey Hi Hello Bonjour Piatto preferito? Questo Le lasagne Il sushi Il cioccolato fondente No è troppo amaro Il nostro amore è amaro Billy Eh mettici un po' di zucchero Dolce preferito Il tiramisù E mica sei caduta La clorsata di more La torta al cioccolato Anch'io la torta al cioccolato Allora sposiamoci Ho cambiato idea Se fossi un animale che animale saresti? In realtà questa domanda non ha senso in quanto gli esseri umani sono già degli animali E quindi sarebbe più corretto chiedere Io voglio essere una scimmia Billy sei già una scimmia Ma allora è il giorno più bello della mia vita Se fossi un animale sarei un giaguaro Sì vabbè Billy E io sarei un dolce coniglietto bianco Tu dolce Scusa Animale preferito? Billy E vai sono il suo preferito Io amo i gatti Anch'io odoro i gatti Ma come me Arturururutututu Avete capito Death Note Code Gears Qualsiasi cosa in cui ci siano delle ragazze che sono delle super gno Billy Sport preferito? Menare Billy Scappare da Ele Basket Computer o cellulare? Leggere un buon libro Scusa Non mi riprenderò mai più Il computer, già che sono mio Per dal cellulare non ci vedo niente Che città vorresti visitare? L'Islanda Ma l'Islanda non è una città Ah, io pensavo fosse vicino a Padova Io vorrei visitare Tokyo oppure Seoul Io vorrei visitare Barcellona Io a Cambridge E andrei all'università di Harvard Sicuramente mi prenderebbero Qualcosa che ami? Me stesso Billy No! Billy E vai Quando sta zitto Oh! Qualcosa che odi Billy? In generale Billy quando non risponde ai messaggi Sì, esatto, lo penso anch'io Scusate che ero impegnato a studiare Fate un saluto finale? Ciao a tutti ragazzi Questa era l'intervista quadrupla con me Billy, quantissimo e secchia Speriamo che il video vi sia piaciuto E se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace Vi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Per far parte della nostra grande famiglia Per far parte del team Olivieri E noi ci rivediamo in un prossimo video Oliieri e oggi Ciao! Oh scusate Non vi avevo visto Mi stavo spazzolando la cuffia Ciao a tutti Io sono Billy E benvenuti in un nuovo video Oggi sono contentissimo Dicevo Oggi sono contentissimo Perché ho appena ordinato una nuova pista delle macchinine E non vedo l'ora che mi arrivi Hanno cito suonato Sarà la pista delle macchinine Andiamo a vedere Pista delle macchinine Oh no Ma non c'è nessuna pista delle macchinine Oh no Non ti muovo Magari un cestino del picnic Un cestino del picnic con una lettera Si vede che ci saranno gli ingredienti Vediamo un po' Oh no Mi sa che ho visto Kissi Missi No non mi dire che è quello che penso Ciao Eleaki Visto che siete stati così bravi con Aghino Potete prendervi cura di Kissina? No! Hai detto di sì Billy? Ho detto di no! Sei il migliore Ho detto no! Ciao! Piese A Kissina piace tantissimo la pizza Ma a me cosa me ne frega Cioè piace anche a me Però insomma Vediamo stavolta cosa c'è qua dentro Zio Billy un corno Che cosa possiamo fare questa volta? Che cos'è quel cestino del picnic? C'è dentro del cibo? Magari una pizza? Del sushi? Una torta al cioccolato? Sì Ele Ma dentro non c'è cioccolato A Kissina! Ma che carina! È ancora più carina di Aghino Ma lo trovi anche tu Emi? Non penso che Emi sia d'accordo Ma... Ma... È scomparsa Kissina! Ma... 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 Cosa stai facendo? Avevo capito che dovessimo puercare Ho detto cercare Billy Perché altrimenti Aghi ci mangerà Ah ok scusa scusa Kissina? Dove sei? Qua? Dove ti trovi? Insomma Fatti vedere Oh no! Ma dove può essere? Era qui 5 secondi fa Insomma E la fine Mi sa che mi chiamerò Billy Spiedino Quando Aghi mi mangerà Ah 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 Billy attento È dietro la pianta Dove? Adesso è dietro il cuscino Io non ho scorreggione Ma dov'è? Dietro la sedia Ah 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 ah